Wow, ma che gran bel party per il Capodanno cinese! Mmm, delizioso! C'è del dragone, si stanno divertendo un sacco! Oh, uno stagno dei desideri! Vuoi esprimerne uno? Sono curioso, che cosa hai chiesto? Ma Jerry sta volando! Ora è tempo di trasformazione! Uh, c'è mancato veramente poco! Jerry ha espresso di essere il più potente dragone di tutta Car City, ed è diventato realtà! Oh, e adesso è fuori controllo! Non è il momento di spegnere il fuoco! Guarda, guarda sopra di te! Il dragone è proprio sopra di te! Oh, fai attenzione, la lanterna sta bruciando! Quella è veramente una scala che può far raggiungere luoghi impensati! Jerry, per favore, fermati! Il Capodanno cinese è una giornata di celebrazione! No, non le lanterne volanti! Più veloce super camion! Devi usare l'ST3000! Gancio di traino! Mi sembra un'ottima scelta! Fai attenzione, le ultime lanterne stanno andando troppo vicine agli alberi! Oh, grandioso! Ora non ce ne sono più! Il dragone è implacabile! Fantastico! Ora devi proprio fermarti, Jerry! Ce l'hai finalmente, super camion! Attenzione, arriva il dragone! Wow, per fortuna non se n'è accorto! La piscina ha raffreddato i suoi desideri! Finalmente è ritornato alla normalità! Jerry è stato molto pericoloso! Wow, che bellissimi fuochi d'artificio! Vai avanti, Chad! Ora Jerry è un dragone buono! Buon anno nuovo a tutti quanti! Sembra che qualcuno abbia bisogno del tuo aiuto, super camion! Ember deve portare le medicine a Ben e Jerry per la loro influenza! Ma il cantiere in una delle strade ha prodotto un sacco di traffico! È tempo di aiutare Ember a prevenire un'epidemia di influenza! È tempo di trasformarsi in super camion! Ember ormai non ha più tempo! Ahaha! Ahaha! Hihi! Ahhhh! Ahhhhhh! Hihi! 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 Questa è.... Hai dato le medicine a Ben e Jerry Super Camion, è proprio il caso che tu ti trasformi ancora Per aiutare a portare queste auto in ospedale Per aiutare a portare a portare a portare a portare a portare a portare in ospedale Super Camion, usa l'ST3000 per aiutare la seconda auto sulla piattaforma Gran bel lavoro Super Camion Un ottimo lavoro, hai salvato ancora la giornata Super Camion Ehi, quella è la tua nuova invenzione per aiutare Ben ad irrigare il suo campo? E il pannello di comando non sta funzionando Ehi, attenzione! Le eliche sembrano impattite hanno cominciato a muoversi da sole Super Camion, sembra che qualcuno abbia bisogno del tuo aiuto L'invenzione di Tom non sta funzionando e si sta ritorcendo contro di loro Devi aiutarli Super Camion Tom, Ben, muovetevi in direzioni diverse Super Camion, devi assolutamente trasformarti Super Camion, si stanno muovendo troppo velocemente e vanno in direzione della città Billy, questo cemento deve assolutamente rimanere asciutto Fai attenzione, Billy! Super Camion, devi trasformarti ancora, velocemente! Oh! Ehi, ma dov'è l'ultima rimasta? Ops, eccola là! Usa l'ST3000! Spiacente, Jamies! Ottimo lavoro, super camion! Ah, così è molto più sicuro! Non è vero! Ehi, state per gareggiare giù alla collina! State pronti al mio 3! 1, 2, 3! Super camion, c'è un problema alla spiaggia! Sulla spiaggia si è abbattuta una grossa onda e l'ha lasciata completamente piena di detriti! Oh, ottimo lavoro, Gary! Deve essere stata un'onda molto grande! Ci sono veramente troppi detriti! Questo ti porterà via tutta la giornata! Super camion, è il momento di trasformarsi! Grandioso! Super camion, è il momento di trasformarsi! Grandioso! Adesso puoi aiutare facilmente Gary nella pulizia della spiaggia! Ehi, fate attenzione ragazzi, state per colpirvi l'un l'altro Wow, la spiaggia si sta ripulendo velocemente Non troppo vicino all'acqua Gary, l'onda potrebbe ritornare Oh, la spiaggia è ancora tutta sporca Forza e coraggio, sono sicuro che quella era l'ultima onda Gary, fai attenzione Oh no, Gary è stato trascinato via dall'onda Fa qualcosa, super camion Devi trasformarti ancora in velocità Più veloce, super camion Prova ancora, super camion, Gary non ha più tempo Super camion, è uno squalo Non preoccuparti, super camion, la riparerai Gary è in pericolo Coraggio, usa l'ST3000 Tieni duro, Gary Prenditi il tuo tempo, super camion, ce la puoi fare Bel tiro, super camion Super camion Quanto siete belli con quelle parrucche di alghe marine Tutti quanti si stanno divertendo così tanto Tom, ma che cos'era? Adesso devi scendere dalla giostra con i tentacoli Guarda super camion, c'è del fumo che si sta alzando dal parco divertimenti È meglio che tu vada a dare un'occhiata La giostra con i tentacoli ha cominciato a scuotere molto molto forte E appena le auto sono scese È esplosa Avviciniamoci un po' e vediamo l'entità dei danni Dei pezzi della giostra si sono sparsi ovunque in città con l'esplosione Super camion, per recuperare tutti i pezzi Questa volta ti servirà una trasformazione molto potente Wow, sei diventato un unicorno Lo userai per recuperare tutte le parti Una parte è proprio sulla cima di quell'albero Ma è assolutamente magico Sta teletrasportando le parti indietro fino alla giostra L'ultima parte si trova proprio sul ponte del canale Ma come? Tutta la magia si è esaurita È tempo di un'altra trasformazione super camion Questa è un'altra trasformazione super camion Questa è un'altra trasformazione super camion La giostra piovra con i tentacoli Ha bisogno della sua corona per ripartire ancora Sono sicuro che super camion riuscirà a trovare la parte mancante Fai attenzione super camion Quella parte è cruciale Più veloce super camion Oh no, l'unica parte mancante è caduta nel canale Eccola là Usa la ST3000, veloce Pare che ora ci siamo super camion Tirala molto lentamente Fai attenzione super camion C'è mancato poco Bel salvataggio super camion Coraggio Tom, rendila funzionante E speriamo che non esploda ancora Uh, finalmente potete rilassarvi Wow, piccoli Avete una nuova meravigliosa palla Cili, guarda quella nuova palla È meravigliosa Cili, non ti va di giocare con Sunny e Barry? Mmm, ha un aspetto veramente delizioso super camion Baby Cili è così triste giù in spiaggia Gli serve il tuo aiuto per ritornare a sorridere Che c'è che non va, Baby Cili? Ti senti poco bene? Giochiamo a nascondino Noi ci giriamo Cili, tu devi nasconderti E noi conteremo fino a tre prima di cercarti, ok? Uno Due Tre Pronto o no? Ora arriviamo Cili ha un aspetto arrabbiato oggi Mi domando che cosa potrebbe farlo ridere? Perché non fai il solletico agli altri piccoli? Questo potrebbe fare ridere Cili Super camion, perché non ti trasformi per fare ridere Cili? Il camion mago sta per caso per fare qualche trucco magico Cili, non è forse la più bella e colorata auto di Lego che tu abbia mai visto? Cili, non guardi nemmeno uno di quelli Prova ancora Super camion Oh no, Cili è ancora arrabbiato Non sta funzionando Super camion Perché non ti trasformi ancora? Wow, lo spider camion sicuramente riuscirà a divertire Cili Guarda Cili, non sono divertenti quelle tele di ragno? Vai avanti Super camion Finalmente sta funzionando Ti puoi fermare Super camion Cili sta sorridendo per merito di Chad Non tuo, mi dispiace Cili, sei per caso affamato? Super camion, usa l'ST3000 per dare a Cili qualcosa da mangiare A che cosa ti servirà utilizzare quell'elica da elicottero? Oh, l'elica da elicottero sta portando la torta che Super camion non ha finito a cena Cili, ti senti felice e giocoso dopo aver mangiato la torta? Cili, ora sei pronto per giocare con la nuova palla? Grazie Super camion per aver di nuovo reso Cili felice Ehi, ma c'è una folla di auto incredibile Wow, ma era veramente fantastico, Carla Oh, sembra stia accadendo qualcosa Come qualcuno ha rubato la consegna di cioccolato da Carrie Ma come l'ha rubata Gary? Lui è un bravo ragazzo Sembra proprio che Matilda non riesca a prenderlo Dovresti aiutarla Parabala, aham, nah Matilda non riesca a prenderlo FII La fase di sua Ahah, ahah, ahah. Ahah, ahah. Ahah, ahah. Ahah, ahah, ahah. Preso! Kyle, potresti trasformarti in un'auto della polizia. Ci aiuterà nell'indagine. Eh, huh? Oh no? E allora dici, dove hai nascosto il cioccolato? Come? Non l'hai rubato? Ma allora chi è stato? Jerry? Ma certo! E sembra proprio che se la sia squagliata Ah, subdolo! E' vero, sta continuando a bloccarvi Come? Vuoi fare la stessa cosa? Lo stereo? Ma io veramente non capisco Oh, ora capisco Le frequenze basse faranno cadere le rocce Jerry, sei in arresto! Jerry, questa è la tua punizione per aver rubato il cioccolato È vero, in ogni caso una punizione deliziosa Godetevi i vostri frullati, ragazzi Wow, sembra che tu sia di fretta, Carl Oh, sei in ritardo per la consegna di dolcetti Per il festival del ciliegio in fiore Wow, che mossa! Oh, sembra che ci sia un'emergenza Dovresti andare, Carl Ci vediamo presto, Carrie Oh, sembra che il festival sia già in moto Oh, oh, il sole di mezzogiorno ha scaldato particolarmente E la torre ha preso fuoco Dobbiamo spegnere l'incendio E anche velocemente Fai attenzione, Edna! Supercambio nelle qui per aiutarci Ah, sì! Super Camion! Usa il tuo tubo! Wow! Un eccellente esempio di collaborazione! Il fuoco è quasi spento! Oh no! Adesso sta andando vicino agli alberi! È un'ottima idea! Separatevi! Ci sei! Ottimo lavoro! Un'impresa fantastica! Super Camion! Meraviglioso! Il fuoco è spento! Gran bel lavoro, Super Camion! Oh oh! E quello cos'è? Oh no! Veloce, Super Camion! Dobbiamo aiutare Edna! Quale veicolo può aiutarci? Oh! Ottima idea! Veloce! Usa la tua gru! Super Camion! È tutto ok, Edna! Ah, eccellente! Grazie al cielo! Guarda, Carla! Carrie ha consegnato tutti i dolcetti che hai lasciato al ristorante! Grazie, Carrie! Grazie, Carla, per aver salvato il festival! Sicuramente è una cosa bellissima! E allora godetevelo tutti quanti! Ci vediamo la prossima volta!